Partire da quando vi siete incontrati e come è nata la vostra collaborazione da così tanti film tra l'altro. Ero in giuria a festival... Meglio che io, è italiano. No, no, accendo soltanto il luogo, poi lascio la parola a casa. Ero in giuria a festival di Tokyo che si svolgeva a Chiodo quell'anno. Ero una bellissima giuria di festival. Amo molto il giuria perché ho la possibilità di vedere tanti film che purtroppo a volte non si possono vedere nella distribuzione, che è un grande peccato. E mi disse un produttore spagnolo se potevo incontrare il signor Carlos Aura che veniva comunque in quel festival a presentare un suo progetto. Io avevo visto la sua trilogia di ballo da cui ero stato veramente incantato. Da Carmene all'Ambolbrucco. Come è il titolo del terzo? Amolbrucco? Ante seriglianese. No, Ante seriglianese. Sempre con lo stesso ballerino. Carmene all'Amblbrucco? Vabbè, mi vedrà il nome. Purtroppo in realtà mi toglie la parola. E la cosa molto bella che si è stata durante la serata di conclusione del festival, ci siamo sentiti vicini io, mia moglie e Carlos, e lui non mi ha parlato del film. Non me l'ha spiegato. Me l'ha illustrato. Perché è un grande disegnatore, un grande, diciamo, di pittore. E mi ha illustrato il film con i disegni. Grazie, Carlos. Buono, questo è vero, no? Fue una riunione misteriosa all'inquietto, in una colina, se veia tutto il quietto al fondo, lo ricordo come se fosse oggi. Io che ho già molto malo memoria, e anche a me ne ricordo perfectamente d'ese dì. Io avevo un bambino d'unos dibuixi, un choc di scenografia, della cosiddetta del Cervo a Vincolo in Sevilla. E Vittorio abbandonò a todo il resto del jurato e si quedò in una mesa conmigo, che, per certo, aveva una comida, una comida, non me ricordo che era, una carne heita con cerveza, con la birra, che era una maravilla, non me ricordo di eso. E a partir d'alli, el decidiu ir a Sevilla e i comencemos a trabajar. E abbiamo fatto, credo che 8 peliculi, 7 o 8 peliculi, giunti. Osea, a partir d'alli, c'è una amistà maravillosa, mentre i due, io voglio molto a Vittorio, credo che il mi piace a me, anche. E, bueno, io lo admiro molto, non solo come fotografico, ma come persona, incluso, dentro di, che mi pare un giro, la fotografia in il cinema, lo admiro ancora più come amico e lo voglio molto, e lo voglio molto a questa famiglia. Il terzo titolo era La Pota del Sangre, l'ho ricordato adesso, della teologia dei panni che faceva Carlo, che era un canto, veramente. Beh, lasciamo spazio alla traduzione, poi andiamo a, prego. Beh, tutto vero, quello che ha detto Vittorio, ci siamo incontrati a Chioto, ed eravamo su una collina dalla quale si poteva vedere tutta la città, me lo ricordo ancora oggi, come se non fosse passato il tempo. Io avevo con me dei disegni, della coreografia, che avrei voluto fare a Sevilla, e Vittorio si mise seduto vicino a me, mi ricordo che abbiamo pranzato con della carne cotta, con della birra squisita, e successivamente Vittorio, poi è venuto a Sevilla, abbiamo fatto otto film insieme, ne è nata una bellissima amicizia, io li voglio molto bene, credo che anche lui voglia molto bene a me, e lo stimo come persona, credo che sia davvero un genio, e voglio molto bene anche alla sua famiglia. Ecco, volevo chiedere cosa porta, cosa ha portato Vittorio Storaro nel suo cinema, che lei crede che non ci fosse, o che fosse diverso, rispetto agli uori precedenti, che sono, come diceva il senatore Storaro, sono comunque dei bellissimi film, dei capolavori, se mi permettono, però l'arrivo di Storaro è come, non so, e Ronaldo della fotografia, che ora ha andato, non so, con che attività e vergoni possiamo fare? La prima volta, che siamo, che stavamo lavorando juntos, perdon, mi italiano, a veces, è una confusione, per esempio, e, non so, stavamo in Sevilla, e lo che mai mi sorprendo, è la portazione del colore, perché io pensavo, che le miei film musicali, non so perché, a partire di Sevilla, non è vero, iban a essere il blanco e negro con il fondo, fin, la illuminazione, i colori solamente erano per i ballarini, e in cambio, la scenografia, vero, iban a essere il blanco e negro, però, per Vittorio, aporto il color, a me, 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 con la cilina, osea, que seguida encontramos una colaboración. Yo recuerdo que incluso él no se fiaba mucho de, de los segundos operadores que son los que llevan la cámara españoles e traía a un secondo che era molto simpatico e molto buono però quando vio a lavorare nel secondo che lavorava conmigo decidio che che era il che era che era il che era il che era la pelicula e a partir d'ahì verrà com'a durga te acuerdas? però realmente questa persona già è morta come tantos amici io ho quasi 90 anni e desgraciadamente questa è una nota al margen desgraciadamente vedo che quasi tutti i miei amici si stanno murendo io ancora sto qui e come dice in spazio corriendo beh devo dire che la prima volta che abbiamo lavorato insieme io mi sono reso conto che a Siliglia Storaro ha potuto apportare il colore quindi io pensavo che tutto potesse essere fatto in bianco e nero mentre Vittorio ha aggiunto con maestria il colore e mi ricordo molto che lui non si fidava degli aiutanti della scenografia e aveva una sua persona di fiducia che al momento purtroppo devo dire che non c'è più e mi rendo conto che io adesso ho 90 anni e che molti dei miei amici purtroppo stanno scomparendo mentre grazie a Dio io sono ancora qui Dio e Vigeto Certo Cosa ha portato l'invento al cinema di Zaglio Sala secondo lei Mi ha fatto molto piacere questa affermazione di Carlo sull'apporto di un certo tipo di visione del colore nel cinema di Carlo Sala da parte mia perché veniva da una serie di studi io ho fatto nuovi studi tra fotografia e cinematografia fino al centro sperimentale ma nessuno mi ha mai parlato dei significati del colore ho cominciato la professione grazie a alcuni registi straordinari come da Franco Rossi a Giuliano Montalto a Luca Rocconi ma il centro mio diciamo dello stile di cinema in Italia è stato Bernardo Bettolucci ovviamente e io ho cominciato a esprimermi in colore del conformista dell'ultimo tanco eccetera senza conoscere cioè mi ho fatto molto emotivo non so perché mi veniva quel tipo di cosa e cercavo di metterli in quei film fino a che io sono arrivato dopo novecenti a Don Cristiano e ho detto io devo conoscere perché li uso che cosa significa usare un rosso un verde un blu eccetera eccetera mi sono fermato per un anno ho studiato la filosofia dei colori sto leggendo tantissimi libri ho dato tanti dipinti e così via e così via e dopo lì ho cominciato a esprimermi con i colori in un modo cosciente cioè conoscendoli e dopo poco siamo incontrati con Carlos quindi avevo proprio bisogno di poter inserire anche nella storia di Flamenco quello che era una visione che dava un'emozione attraverso l'immagine dei tre colori fondamentali o complementari che siano e quindi in un'emozione di un'emozione